Siamo davvero arrivati all'assurdo. L'amministrazione comunale di Taranto ha responsabilità gravi, pesanti, per non essere riuscita a rendere agibile lo stadio e cosa fa il sindaco Melucci? Ribalta la frittata. Infatti il presidente del Taranto, Massimo Giove, ha annunciato il suo disimpegno rispetto alla società, nauseato dall'assoluta indifferenza dai mancati interventi da parte del sindaco. Giove ha detto chiaramente, esplicitamente, al sindaco Melucci del Taranto Calcio non interessa nulla. Melucci che cosa fa? Il sindaco Melucci ribalta la frittata e dice Caro Giove, la tua è una scusa in buona sostanza. Se non sei in grado di gestire la società, lo stai dimostrando, lascia il titolo, consegna il titolo e vai via. Consegna al comune il titolo nella persona del sindaco e vai via. Ma questo è un atteggiamento assolutamente irresponsabile, falso e ipocrita di un bugiardo quale è Rinaldo Melucci. Vedete, io non entro nel merito della gestione Giove, perché Giove ha avuto consensi, ha avuto anche parecchie critiche. Non entro nel giudizio su Giove presidente. Però una cosa è sicura. Il sindaco Melucci non può permettersi di sottrarsi alle gravi responsabilità dell'ente da lui gestito, incapace di ottemperare a quelle prescrizioni tali da rendere lo stadio appunto agibile e, come dire, confutare la realtà. Cioè praticamente questo sta dicendo a Giove, tu non sei all'altezza di gestire una società, non hai i mezzi per gestire una società, vattene, lasciaci il titolo. Ma vi rendete conto? Cioè il sindaco Melucci invece di tacere doveva starsene zitto zitto, doveva chiedere scusa alla città prima ancora che alla società e ai tifosi e questo fa pure l'arrogante, fa pure il presuntuoso. Stiamo parlando di un'amministrazione, quella di Melucci, insieme al suo assessore ai lavori pubblici, appunto Mimmo Ciraccia, l'assessore allo sport, Gianni Azzaro e così via e compagnia cantante. Bene, un gruppo di incapaci politico-amministrativi che hanno anche il barbaro coraggio di parlare. Ma come vi permettete di dire a una persona che vi sta dicendo, voi ve ne state strafottendo del tarantocalcio, vai a dire questa è una scusa e tu levati da mezzo perché evidentemente non sei in grado di gestire la società, non hai le possibilità di portarla avanti. Ma vi rendete conto, Tarantini? In tutte le città d'Italia, penso a Bari, penso a Brindisi, ma in ogni parte d'Italia. Là il comune fa i salti mortali per aiutare le società di calcio, per aiutare il calcio. Invece a Taranto che cosa esiste? Esiste un sindaco che prima si era fissato a voler fare uno stadio nuovo e ora questo stesso sindaco, cari signori, cosa fa? Si permette di offendere una società. Perché a questo punto, ripeto, non entro nel merito della condotta, non sto esprimendo un giudizio su Giove Presidente, ma è inaudito che un'amministrazione comunale offenda una società dopo aver abbandonato la società, aver assunto dei comportamenti che di fatto danneggiano il calcio a Taranto, danneggiano una città, oltre a offendere, a far male al sentimento dei tifosi tarantini. Piuttosto, sindaco, invece di girare la frittata, rispondi. La tua amministrazione deve rispondere all'interrogazione che io e il consigliere Battista abbiamo posto. Chi ha autorizzato il deposito di quei rotoli di catrame altamente infiammabili che puntualmente hanno preso fuoco sotto la curva sud? Chi li ha autorizzati? Abbiamo fatto un'interrogazione il 4 settembre, sono già scaduti i 20 giorni entro cui dovevate risponderci. Nessuna risposta, è grave, lo pretendiamo, dobbiamo saperlo da consiglieri comunali, vogliamo sapere qual è stato quest'atto, se c'è stato e chi l'ha firmato. Altrimenti, caro sindaco, se la sua amministrazione non darà risposte, noi a più di qualcuno faremo salire a due a due i gradini di palazzo di giustizia. È un nostro diritto. Quindi, caro Melucci, anziché ribaltare la frittata su Giove, pensa a rispondere, a dirlo. Chi cazzo è stato? Chi cazzo è stato? Avete paura a dirlo? Perciò, Melucci, tu sei un incapace politico-amministrativo, lo stai dimostrando ovunque, la città è ridotta a una latrina, non ne parla di invivibilità assoluta, incapacità di progettare, continue favole, guardati allo specchio e prima di esprimere giudizi sugli altri, su Giove, pensa a te stesso, dimettiti per il bene di Taranto, ma ti rendi conto che a Taranto non ti vuole più nessuno, ti rendi conto e ricordati, ricordati a Taranto chi tocca il pallone politicamente si fa molto ma molto male. Il tuo tempo è scaduto, Rinaldo Melucci, levati da mezzo politicamente e dimettiti, fallo per il bene della città.